Ben trovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando tornerà dalla Spagna un campo di alta pressione a interessare l'Italia. Difatti possiamo notare da questa grafica il moto delle perturbazioni ovest verso est dall'oceano verso il continente europeo, ma non interesseranno direttamente l'Italia, rimarranno con le sue precipitazioni, queste perturbazioni molto più a nord, verso la Svizzera, la Germania, i Paesi Bassi, Francia e Inghilterra. Ancora deficit pluviometrico importante quindi soprattutto per il nord Italia. Nuvolosità, un po' di variabilità al centro-sud altrove più sole. Nel dettaglio quindi anche la mappa delle precipitazioni, non ci sono piogge su tutto lo stivale, come dicevamo piogge oltralpe verso i Paesi Bassi e la Francia. In sintesi, la mappa dell'Italia è una giornata di sole, a parte un po' di variabilità soprattutto sul basso tirreno per quanto riguarda le regioni meridionali e temperature in aumento diffusamente tra i 15 e i 20 gradi. Ulteriori dettagli approfondimenti scaricando l'app di Trabi Meteo visitando gli articoli sul nostro sito web.